buongiorno mi sentite bene buongiorno presidente ma intervengo anche con il presidente della stessa toscana vedere quello che è successo domani presidente mi rattrista moltissimo ok guarda sentimo a me sentimo a me io non voglio sentire più tu hai parlato per un anno tu hai parlato per un anno io non tu non sei non sei al posto di danni romanzini e me se sei col giornalismo noi abbiamo avuti noi abbiamo avuti noi è chiaro questo lei non si può permettere di offendere i giornalisti non può dire che i giornalisti sono cristiani tu vedi che tu hai un cartellino rosso io sto io sto quando io mi sto guardando i miei interesse come tutti quanti tuoi non può offendere nessuno ma falla va cangia questo vai